Questo programma è offerto da Centro Sportivo Football 24, un'oasi sportiva immersa nella città. Le previsioni del tempo per la provincia di Messina. Domani, sabato 22 marzo, cielo sereno, parzialmente nuvoloso, temperature stabili, comprese tra i 13 e i 18 gradi. I venti soffieranno deboli da ovest, nord-ovest su entrambi i versanti, i mari poco mosso, il Tirreno e lo Ionio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.